La cosa gravissima è che girano delle sue foto segnaletiche che come potete vedere sono state fotografate direttamente dal software delle forze dell'ordine. Qualcuno ha fotografato la schermata del computer del software delle forze dell'ordine dove ci sono scritti tutti i suoi dati, la sua faccia proprio chiarissima. Io tra l'altro ho cancellato anche i capelli perché potrebbe essere riconoscibile no? Anche dai capelli. Sospettato di omicidio, commesso a terno d'isola. Se lo vedete in giro bloccarlo e avvisare. Comandante compagnia Treviglio, la caccia all'uomo è partita. Cioè questa persona che ha messo in giro questo messaggio si finge un membro delle forze dell'ordine che si appella alla popolazione per fare la caccia all'uomo. Ma ragazzi ma non esiste che carabinieri, poliziotti, comandanti dicano alla popolazione di bloccare un sospettato. La mia vicina ha visto tutta la scena. Lui con nonchalanza è entrato in macchina e senza nessuna emozione ha sparato alla moglie per poi rivolgersi alla vicina al tabaccaio dicendo Cosa aspettate? Chiamate qualcuno, ho ucciso mia moglie. Per onorare la memoria di Anna Rita perché mi metto nei panni di questa donna che aveva come grandi passioni della sua vita proprio il suo cuore era interamente dedicato ai suoi nipoti e a questi gatti. E mi metto nei suoi panni e fossi in lei io vorrei che qualcuno ora si prendesse cura di quei miciolini. Per cui so che tra voi ci sono moltissime persone che amano i gatti per cui se siete di Fonte Nuova, Torlupara o dintorni o conoscete qualcuno che abita lì per favore andate a controllare e fatemi sapere se questi gatti stanno bene e se c'è chi se ne prende cura al posto di Anna Rita. Credo che sia una delle poche cose che possiamo fare per lei. Ora ormai lei ce l'hanno tolta da questo mondo però penso che sia il minimo che possiamo fare per onorare la sua memoria. Buonasera signore e signori del crimine, benvenuti in questa nuova puntata di TG Crime dove andremo ad analizzare i due casi di cui si parla di più al momento. Parleremo del femminicidio di Roma dove un uomo, Domenico, ha ucciso sua moglie sparandole un colpo di pistola a bruciapelo poiché ossessionato dal controllo nei suoi confronti e perché, così almeno lui ha detto, lei spendeva troppi soldi per i gatti. Poi dovremo tornare sul giallo di Sharon Verzeni, un giallo che sta tenendo col fiato sospeso l'intera bergamasca poiché proprio non si capisce chi possa averla uccisa con così tanta decisione e con così tanta anche premeditazione tanta da non apparire nemmeno nelle telecamere di videosorveglianza. Ma prima di addentrarci in questi casi chiedo a voi dello YouTube di iscrivervi al mio canale per sostenere il mio lavoro per voi un piccolo gesto per me ha davvero un grandissimo valore e se avete voglia di venire a trovarci in live su Twitch. In questo momento mi trovo in diretta con queste bellissime persone che fanno parte della community e che arricchiscono sempre la mia analisi e la narrazione dei casi. Noi vi aspettiamo ogni martedì, giovedì e domenica alle ore 20 e se volete avere a che fare con me e seguire un po' la mia quotidianità e quella del Mao che oggi non c'è perché sono in viaggio ma lo rivedrete presto, seguitemi anche su Instagram, mi trovate come Bugalalla. Grazie mille, tanto amore e buona visione. Partiamo con il femminicidio di Roma che più che Roma Roma siamo a Fontenuova. Per la precisione i due vivevano, c'è più che altro la moglie, viveva a Torlupara. Ora non so se siete della zona ma ci tengo che qualcuno della zona ci sia perché ho da farvi più avanti un importante appello. Quindi se siete della zona tenete sulle antenne o se conoscete qualcuno che è della zona tenete sulle antenne perché poi avrò bisogno di chiedervi una cortesia. Comunque Fontenuova è un comune facente parte dell'area metropolitana di Roma, è a nord e il 6 agosto qui si è consumato un terrificante femminicidio. Anna Rita Morelli, la donna che vedete qui nella foto di 72 anni, casalinga, viene uccisa con un colpo di pistola, sparato a bruciapelo, una pistola beretta, dal suo marito Domenico dal quale comunque era separata però diciamo formalmente erano ancora sposati. Lui si chiama Domenico Ossoli, ha 73 anni ed è un ex autista di Pullman, attualmente in pensione, anzi attualmente professione carcerato giustamente. Il proiettile era di calibro 7,65, lui le ha sparato al braccio ma il proiettile ha trapassato il braccio perché poi le ha proprio sparato a bruciapelo quindi le ha messo la pistola appoggiata e il proiettile si è infilato direttamente dentro il cuore uccidendola sul colpo. Lui ha questa pistola regolarmente detenuta. Domenico infatti è un appassionato di caccia, è un cacciatore da molti anni quindi a portodarmi regolare per uso sportivo diciamo per caccia e inoltre ma non vi so dire per quale motivo ho cercato in giro per le fonti ma non l'ho trovato era anche autorizzato a girare con la pistola. Quindi io so che le persone vengono autorizzate, le persone con portodarmi vengono autorizzate a girare con la pistola per motivi di sicurezza personale. Esatto, Roma, difesa personale. Ora però non so per quale motivo lui dovesse difendersi con la pistola. Magari è stato vittima di atti persecutori, magari è stato vittima di minacce di morte ora questo io non lo so, non l'ho trovato da nessuna parte quindi se qualcuno lo sa me lo scriva nei commenti o qui in diretta se siete qui con me. Ecco perché è importante che veniate in diretta così me le dite subito le cose e io posso arricchire la narrazione, vedete siete fondamentali. L'omicidio è avvenuto alle nove del mattino mentre lei era a bordo della sua auto, una panda rossa in un parcheggio davanti ad una tabaccheria in via Palombarese. Nella stessa strada c'era anche una clinica veterinaria. Ora lui viveva in Umbria ormai da tre anni perché lei lo aveva cacciato di casa per motivi che tra un attimo vi racconterò, comunque sappiate che erano separati e lui sapeva sempre lei dov'era perché le aveva installato un GPS nella macchina. Quindi che succede? Lui quella mattina arriva direttamente dall'Umbria a bordo della sua di panda perché hanno due pande, lui una panda bianca, lei una panda rossa e lo si vede proprio dalle immagini delle telecamere che arriva e parcheggia in quel parcheggio dove c'era parcheggiata anche la macchina di lei. Lei in quel momento era dentro la clinica veterinaria poiché era andata dalla veterinaria per chiedere delle ricette per i gatti. Lei era una gattara appassionata, amava tantissimo prendersi cura dei nostri animaletti preferiti e in particolare si prendeva cura di questa colonia che viveva vicino a casa sua. Infatti lei aveva tutte le ciotoline davanti alla sua porta, se ne prendeva cura e quindi tra l'altro una scena tristissima è vedere che anche dopo ore dalla sua morte c'erano ancora le ciotoline con i gatti che andavano lì a mangiare. Mi ha spezzato il cuore veramente. Insomma lei era andata dalla veterinaria per chiedere appunto questa ricetta per gli antiparassitari dei gatti della colonia e lui ha parcheggiato la sua macchina nel parcheggio e ha aspettato che lei uscisse dalla clinica veterinaria. Lei è uscita, è entrata nella sua di panda e lui a quel punto si è avvicinato a lei e le ha sparato mentre lei era al posto di guida che se ne stava andando. Probabilmente l'ha avvicinata, lei ha abbassato il finestrino perché appunto la macchina viene trovata col finestrino dal lato guidatore abbassato, probabilmente lui si è avvicinato e tra l'altro lui è uscito dalla sua auto soltanto con la pistola. Quindi è andato lì con l'intento di ucciderla, è andato lì, aveva la pistola nel borsello, è sceso dalla macchina solo con la pistola nel borsello, si è avvicinato a lei, le ha fatto tirare giù il finestrino e le ha sparato. Quindi veramente orribile. Subito dopo l'assassino è entrato nella tabaccheria che è lì e con ancora la pistola in mano ha detto al tabaccaio di aver ucciso sua moglie. Tra l'altro il tabaccaio aveva sentito il colpo di pistola. Ora io ho consultato un po' di giornali, un po' di trasmissioni televisive che però effettivamente non riportano esattamente quello che lui ha detto veramente al tabaccaio poiché le notizie dicono che lui è entrato dal tabaccaio dicendo ho sparato a mia moglie ma non volevo ucciderla. In realtà non è questa la frase originale. Mi è stato riferito da una di voi che abita nella zona e conosce il tabaccaio che io ringrazio infinitamente perché voi mi date sempre delle informazioni di prima mano quindi grazie infinite. Mi ha detto che in realtà Domenico è entrato dal tabaccaio e gli ha detto testuali parole. Ho ucciso mia moglie perché spendeva troppo per i gatti. Il tabaccaio in quel momento vedendo che lui brandiva ancora la pistola si è spaventato quindi ha cercato inizialmente di calmarlo e poi in breve sono arrivati fortunatamente i carabinieri. Quindi diciamo che il suo movente in quel momento, il movente momentaneo diciamo era spende troppo per i gatti. È ovvio che questo non è il movente nella sua interezza. C'è una storia, un contesto tra di loro che tra l'altro erano insieme da 40 anni, hanno messo su famiglia, hanno tre figli grandi. C'è una storia di possessività e gelosia che fa da contesto a quello che può essere considerato diciamo un evento scatenante, ovvero il fatto che la moglie stesse spendendo soldi per questi gatti. Il fatto che lui fosse fuori di testa è assodato, cioè nel senso. Poi mi hanno anche detto che nella zona c'era un problema per cui si erano anche organizzati nel quartiere per cercare una soluzione. C'era un problema di un bastardo, possiamo chiamarlo col suo nome, un bastardo, che se ne andava in giro a tirare freccette ai gatti, ferendoli o anche magari uccidendoli. Ora questo non lo so quali fossero i risultati di queste freccette, tuttavia spero di no. E quindi era un po' che il quartiere si era attivato per riuscire a capire chi fosse questa persona. C'è qualcuno che sostiene che fosse proprio lui. Io spero che fosse proprio lui, così al momento i gatti almeno sono fuori pericolo dalle freccette. Domenico era andato a vivere a Norcia da tre anni, aveva la sua abitazione lì, viveva lì da solo, ma spesso si fermava a dormire a casa della moglie. E voi direte ma com'è possibile che la moglie gli permetteva di restare lì? Allora, Anna Rita non lo sopportava più Domenico, non ne poteva più di lui, soprattutto perché lui si comportava in maniera ossessiva, controllante, possessiva e folle gelosia, che non è un verbo ma va bene, nei confronti di lei. E quindi lei non lo poteva più sopportare, motivo per cui si sono lasciati, motivo per cui l'ha cacciato di casa. Il problema però è che Anna Rita era disoccupata, cioè nel senso lei ha sempre fatto la casalinga, quindi è sempre stata mantenuta dal marito e a lei pesava moltissimo questa situazione. Quindi deduco che lei fosse anche in qualche modo vittima di sensi di colpa nei confronti del marito, che in qualche modo l'ha sempre mantenuta e continuava a mantenerla, perché anche in seguito alla separazione poi gli era stato imposto di darle un mantenimento, tra l'altro un mantenimento misero di 300 euro al mese. Quindi a mio parere, poi di questo non ne abbiamo ancora una certezza, ma si sa che a Anna Rita pesava molto dover pesare su di lui, secondo me lei lo assecondava un po' anche per una sorta di gratitudine, per una sorta di senso di colpa. Io quello che vi voglio dire a voi donne, ma anche a voi uomini, perché non è sempre detto che sia per forza l'uomo a mantenere la donna, anche se è la cosa più comune. Ragazzi studiate, ragazze studiate, anche se non vi piace studiare studiate, portatevi a casa quel cacchio di pezzo di carta, portatevi a casa una qualifica per poter lavorare, che poi un giorno vi sposate e va bene che lavora solo lui, e va bene che vi fate mantenere, mi sta bene, ma il mio consiglio è abbiate sempre un piano B pronto, abbiate sempre una qualifica che potete spendere nel mondo del lavoro, perché non si sa mai che poi finisce male, rimanete a piedi, non potete più spendere le vostre carte per trovare un lavoro che vi mantenga, voi magari anche i figli, perché la gente non si sa mai come diventa poi nel mondo, quindi soprattutto ragazze giovani che mi stanno ascoltando, io ci tengo a darvi questo messaggio, perché a me è stato dato quando ero bambina, l'ho seguito e sono davvero felicissima di averlo fatto, ma secondo me è molto importante che lo dica anche alle nuove generazioni. Anche se non vi piace studiare, fatelo lo stesso, imponetevelo, anche se prendete il minimo sindacale, prendete 6 al liceo, chi se ne frega, prendete 18 all'università, va benissimo, portatevi a casa quel cacchio di pezzo di carta, perché un giorno non dobbiate mai finire come Anna Rita, questo è il mio consiglio. Anna Rita doveva vivere in una situazione di controllo, 24 ore su 24 costante di questo marito, che era geloso in maniera ossessiva e aveva, Anna Rita aveva anche già iniziato le pratiche per il divorzio con l'avvocato. Lei non lo aveva mai denunciato per maltrattamenti e per violenze, anche perché, insomma, da quel che pare, lui non le metteva le mani addosso, non le faceva violenza fisica, ma sappiamo molto bene che la violenza psicologica tante volte lascia segni anche più duraturi di quella fisica. Domenico infatti aveva installato un GPS sulla macchina di Anna Rita per controllare tutti i suoi spostamenti e sapere sempre lei dove andasse, con chi si vedesse, eccetera. Tra l'altro gli inquirenti sono convinti che, anche se non ne hanno ancora la certezza assoluta, perché è successo due giorni fa, le indagini sono ancora in corso, ma sono convinti che all'interno della casa di Anna Rita, che poi era di proprietà di lui, lui avesse installato delle microcamere e che avesse installato anche una app spia sul cellulare di lei. Questo perché, in seguito alla perquisizione nella casa di Domenico, quella di Norcia, sono state trovate decine di registrazioni audio di Anna Rita a sua insaputa, che sono state salvate su diversi dispositivi. Lui inoltre registrava tutte le telefonate che si facevano e le teneva tutte salvate. Non so a quale scopo lui registrasse le telefonate di lei, non so se era una sorta proprio di follia maniacale, di ossessione o che, comunque non erano soltanto quelle le registrazioni, erano anche delle registrazioni di Anna Rita mentre era per cavoli suoi, insomma. Come vi dicevo, la coppia ha tre figli e a questi figli Domenico aveva già ripetuto più e più volte che non avrebbe mai accettato il divorzio. Tant'è che la frase light motive, cioè la frase che lui ripeteva molto spesso ai suoi figli, era piuttosto l'ammazzo, ma non le do la separazione. E qui ci saranno delle persone che mi diranno, ma siccome sti figli erano già ampiamente adulti, perché non hanno denunciato? Perché non si sono preoccupati per la madre? Perché non l'hanno protetta? Non lo so, non lo so. Fatto sta che, secondo me, loro hanno minimizzato il problema. Ovvero, siccome non aveva mai fatto gesti violenti nei confronti della loro mamma, probabilmente loro hanno detto, vabbè, starà esagerando, probabilmente è un iperbole, è un modo di dire, piuttosto l'ammazzo che separarmi, no? E invece era proprio letterale. Per cui io vi chiedo di essere anche molto empatici in questa situazione, di non accare i figli della coppia nei commenti, perché non possiamo sapere come si sentono e come si sono sentiti. sicuramente in questo momento già si sentono abbastanza in colpa, per cui non c'è bisogno che gli mettiamo il carico da 90 anche noi. Io sono sicura che loro non avrebbero mai immaginato un finale del genere. C'è poi la testimonianza di Salvatore Grosso. Salvatore Grosso è il meccanico che ha la sua ufficina proprio accanto alla casa dei coniugi, cioè la casa dove poi era rimasta a vivere lei. E il giorno prima dell'omicidio ha incontrato Domenico, e Domenico si è messo a chiacchierare con lui sempre con il solito, la solita tiritera in cui si lamentava della moglie. Eh, le donne sono la mia rovina. Eh, mia moglie è quella stronza. Eh, così, cos'ha, insomma. Salvatore ha rilasciato un'intervista ai giornalisti in cui ha detto era ossessionato dai soldi che le doveva, non parlava d'altro, covava rabbia. Mi diceva, non la voglio mantenere io, basta. Lui negli ultimi giorni era strano, più cupo del solito. Quindi sostanzialmente era un po' di anni che Domenico andava lamentandosi del fatto che doveva mantenere la moglie, che lui però la pensione se l'è guadagnata, che però questa moglie spendeva i soldi qua e là, lui doveva mantenere perché gli doveva dare 300 euro al mese a lei. Che poi, cioè, con 300 euro al mese non ci mangi nemmeno. Quindi chiaramente lei poi cercava di sopperire facendo dei lavoretti non qualificati, cioè per esempio faceva la badante o faceva le pulizie in casa delle persone, cercava di arabattarsi un po' come poteva. Per cui chiaramente anche lei viveva come una formichina e l'unico vizio, diciamo, che si concedeva era prendersi cura di questi gattini. Tra l'altro è emerso che Domenico aveva intenzione di vendere la casa dove era rimasta vivere a Narita. Quindi, cioè, il suo obiettivo era proprio lasciarla a piedi, no? Ti do il minimo indispensabile ma ti lascio pure senza casa. E lei quindi in qualche modo sopportava la convivenza parziale perché era anche terrorizzata all'idea che lui potesse toglierle l'abitazione, no? Domenico si costituisce immediatamente dicendo di aver ucciso lui la moglie e ha consegnato ai carabinieri immediatamente il borsello con dentro la beretta. Ma una volta interrogato si è difeso dicendo No, ma io non volevo uccidere mia moglie. Io volevo solo spararli alle gambe. A Domenico? Ma gli stai a dire? Cioè, le ha sparato a bruciapelo? Tra l'altro è un cacciatore quindi non è che non sa a che parte esce il proiettile da una pistola, no? Dobbiamo davvero commentare? Non credo. Non credo. Ma diciamo che il PM non gli ha creduto e infatti i magistrati nel decreto di fermo scrivono È evidente la volontà omicidiaria dell'uomo che attirava la donna colpendola a bruciapelo con un'arma da fuoco nonché l'evidente incompatibilità di quanto constatato dal medico legale sulla non volontà omicidiaria. Domenico Ossoli viene anche contestata la premeditazione perché per quanto Annarita non avesse mai sporto denuncia per maltrattamenti o violenze lui aveva già ripetuto più e più volte ai figli in particolare adesso sappiamo i figli poi non sappiamo se usciranno nuove testimonianze comunque già l'aveva detto ai figli di volerla uccidere poi loro non l'hanno presa sul serio comunque non l'hanno preso sul serio ma gliel'ha detto e in più arriva direttamente dall'Umbria con la pistola addosso perché lui si è fatto tutto il viaggio dall'Umbria al volante con il borsello e la pistola dentro con dentro otto proiettili e è sceso dalla sua macchina per avvicinarsi a quella della moglie è chiaro che quella mattina si è svegliato con l'intenzione di uccidere la moglie quindi chiaramente ora gli viene contestata anche la premeditazione. In ogni caso direi che non c'è più molto da dire rispetto a questo caso è stato risolto in maniera piuttosto veloce ora lui dovrà affrontare un processo e mi auguro che sconterà il resto della sua vita in carcere anche perché ha 73 anni direi che i suoi giorni possono terminare in carcere io glielo auguro con tutto il cuore. Torniamo adesso sul caso di Sharon Verzeni che è al momento un vero e proprio giallo per cui non si sa assolutamente chi l'abbia uccisa anche se cominciano ad esserci i primi sospetti ma dobbiamo ridimensionare la cosa perché in televisione ma anche nei titoli di giornale si dice che gli inquirenti hanno una pista hanno la pista degli extracomunitari in realtà non c'è stata nessuna conferma da parte degli inquirenti rispetto alla pista degli extracomunitari o rispetto a qualunque altra pista poiché al momento, grazie al cielo gli inquirenti stanno lavorando con estremo riservo per cui i giornalisti si basano su quello che si vocifera nel paese quindi quello che viene propinato al pubblico come novità in realtà sono voci di paese ok? con questa dovuta premessa andiamo a dirvi che cosa si sta dicendo in merito al caso Sharon, questa meravigliosa ragazza che è entrambe lei in entrambe le foto di 33 anni è stata uccisa mentre faceva la sua camminata notturna poco prima del luna di notte nella notte del 30 luglio a Terno d'Isola siamo in provincia di Bergamo per chi fosse interessato alla pista diciamo serial killer di Bergamo poiché dovete sapere che esiste un serial killer nella Bergamasca ce ne siamo certi poiché sono state uccise due donne accoltellate e sui loro corpi sono stati trovati due DNA appartenenti alla stessa persona anzi per la precisione sul corpo dell'una e sull'arma del delitto dell'altra ma per questo approfondimento vi rimando allo scorso TG Crime per oggi andiamo oltre Sharon stava camminando poiché seguiva i consigli della dietologa per perdere peso che a quanto pare voleva un attimo dimagrire e la dietologa le aveva detto di fare lunghe passeggiate il problema è che è caldo e quindi lei approfittava delle poche ore di fresco notturne ed era uscita avendo con sé soltanto il cellulare, le chiavi di casa e gli auricolari lei era in tuta quindi era in tenuta sportiva proprio perché doveva fare sport probabilmente indossava gli auricolari mentre è stata aggredita alle spalle tra l'altro questo assassino l'ha colta di sorpresa non solo perché appunto le è arrivato alle spalle ma anche perché lei con ogni probabilità non sentiva è stata colpita con tre coltellate alla schiena che purtroppo le sono state fatali perché hanno perforato i suoi polmoni ma ha avuto il tempo di voltarsi guardando in faccia il suo assassino che poi con meno decisione le ha dato una quarta coltellata al petto questa invece non mortale è stata una coltellata più imprecisa la mia teoria che vi ho detto anche nella scorsa puntata è che l'assassino si sia sentito a disagio nel trovarsi faccia a faccia con la sua vittima questo potrebbe dire sia che la conosceva e quindi era in imbarazzo era in timorito insomma dal giudizio dagli occhi della vittima che ti giudica negli ultimi istanti della vita e ti fa capire ti fa forse prendere contatto con quello che hai appena fatto ma potrebbe anche significare che può essere uno psicopatico che uccide per il gusto di uccidere abbiamo visto che ci sono stati diversi serial killer che non erano a loro agio nel guardare le vittime negli occhi uno esempio su tutti è Donato Bilancia recuperatevi la storia di Donato sul mio canale youtube lei quindi dopo essere accoltellata l'assassino è fuggito ancora non sappiamo con esattezza se a piedi in bicicletta o con un altro mezzo lei ha fatto qualche passo e si è accasciata a terra le ultime azioni che è riuscita a fare prima di perdere conoscenza sono state quelle di prendere il cellulare digitare il 112 e chiamare e con il suo ultimo respiro ha detto aiuto mi hanno accoltellata e poi ha perso conoscenza è accorsa poi una signora residente della zona che l'aveva sentita chiedere aiuto e i due ragazzi che passavano di lì in macchina si sono fermati per soccorrerla i ragazzi che poi hanno preso il cellulare quando lei era al telefono e insomma è crollata ha perso i sensi e hanno dato le altre indicazioni ai soccorritori purtroppo però non c'è stato niente da fare all'arrivo dei soccorritori per quanto abbiano tentato di rianimarla per lei non c'era più niente da fare ci sono però delle nuove testimonianze c'è una donna che abita nel palazzo di via Castagnate 29 che è un palazzo marrone scuro sotto il quale è avvenuta l'aggressione e questa signora ha testimoniato ciò ha detto ho sentito il rumore di un'automobile come di una frenata e di una ripartenza ho sentito le ruote fischiare poi ho sentito gridare aiuto aiuto ho alzato la tapparella e la donna era già a terra quindi secondo questo testimone c'è un'automobile che sfreccia via dopo l'aggressione quindi se i due eventi sono collegati perché poi lei sente questo rumore apre la tapparella vede lei a terra quindi sembra che i due eventi siano effettivamente collegati o comunque avvenuti in un tempo coincidente la domanda è se l'assassino si è allontanato in macchina a questo punto credo che gli inquirenti avrebbero già una pista molto chiara almeno starebbero cercando una macchina per cui il fatto che invece pare che al momento dalle telecamere non si sia ancora scoperto niente probabilmente sono due eventi scollegati magari c'era qualcuno che faceva il pazzo in macchina mentre lei veniva uccisa da un altro e infatti la macchina sarà passata da una telecamera tra l'altro gli inquirenti al momento stanno analizzando anche le telecamere dei comuni limitrofi proprio per verificare se qualcuno è arrivato anche non dallo stesso paese ma poi si è allontanato magari in un altro comune ora lì le telecamere sono dappertutto tranne nel punto esatto dove lei è stata accoltellata per cui la macchina se c'era davvero è apparsa sicuramente nelle immagini delle telecamere eppure siamo qui dopo una settimana che ancora non si sa niente con che c'è da dire che Sharon era anche una ragazza molto 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 riservata stava sempre sulle sue e a quanto pare non aveva amici e amiche e anche questo è un punto che trovo davvero molto triste nel senso che anche il fidanzato lo vedremo più avanti nella sua intervista quando dice ho chiesto informazione alle sue colleghe ma non mi hanno saputo dire niente poi vengono intervistate le colleghe e i colleghi e loro dicono ma lei si faceva i cavoli suoi non ci dava granché confidenza non vengono mai intervistate gli amici le amiche una cugina niente tra l'altro quelli che vengono intervistati dicono no ma lei era sempre o da sola o col fidanzato era sempre così chiusi tra loro due quindi questo per dirvi che potrebbe anche esserci stata una figura diciamo stalkerizzante nei suoi confronti ed è anche possibile che lei non si sia confidata con nessuno perché appunto non aveva persone con cui confidarsi o che in qualche modo fosse talmente tanto riservata a non volerlo dire neanche al fidanzato e ai genitori anche un'altra persona parla di un'automobile un'altra donna che abita poco più avanti in via primo maggio dice di aver sentito una macchina sgommare quindi con ogni probabilità la macchina sgommante c'è ma forse non è collegata con Sharon comunque questa testimone dice non so di preciso che ora fosse ma mi sono alzata per andare in bagno come mia abitudine ero andata a letto alle 22 poteva essere l'orario dell'omicidio quella notte non ho fatto caso al rumore ma ci ho riflettuto dopo la notizia che la donna era stata coltellata qui vicino cioè lei dice io sono andata a letto alle 22 di solito siccome sono una persona molto abitudinaria quando mi alzo per andare in bagno è intorno al luna quindi ho sentito quel rumore alzandomi per andare in bagno quindi poi ho collegato che potrebbe essere effettivamente la stessa macchina ma potrebbe anche essere che la sua vescica non è stata così puntuale quindi potrebbe anche essere stata un'altra macchina per cui su questa testimonianza qui non è che ci farei troppo affidamento più che altro mi ha colpito il fatto che queste due donne non hanno depositato la loro testimonianza presso i carabinieri cioè al momento in cui parlo spero che lo abbiano già fatto ma loro sono state intervistate dai giornalisti e i giornalisti gli hanno chiesto ad entrambe ma l'hai detto ai carabinieri? e loro ma no cioè allora forse hanno visto il documentario Netflix su Yara che cambierà si hanno detto mi sa che non ci conviene dire le cose però no non credo non credo assolutamente penso che come hanno detto non ritenevano fosse rilevante e mi auguro che al momento abbiano capito che invece è rilevante siano andate a testimoniare in ogni caso ci sono i video mancano sempre le telecamere più salienti oh ma sai cosa io sono convinta che qui non sia una questione di mancano le telecamere ma sono convinta che il killer la stesse proprio aspettando lì che lui sapesse molto bene che in quella zona non c'erano le telecamere e che quindi avesse aspettato pronto a farle l'agguato che lei passasse proprio da quel punto in cui non c'erano le telecamere comunque c'è un'intelligenza criminale perdonatemi il termine dietro questo omicidio perché c'è sicuramente un killer che sa il fatto suo non ha lasciato delle prove non si è fatto vedere né arrivare né fuggire l'ha colpita alle spalle in modo iperpulito senza lasciare tracce non ha lasciato da nessuna parte l'arma del delitto sapeva che non c'erano le telecamere conosceva gli spostamenti della vittima quindi secondo me non può essere un balordo qualunque un drughè o uno che siamo donne cioè secondo me è uno che se l'è studiata bene la cosa però ripeto è una mia valutazione personale anche a me sa da serial killer tantissimo vi dico la verità però forse sono solo delle feels è un killer furbo sì sì ragazzi è un killer furbo e la PM per quanto la procura sia quella di Bergamo non è la Ruggeri ma è Emanuele non mi ricordo il cognome scusami Emanuele ma Emanuele mi hanno fatto sapere delle fonti tramite Instagram è una bravissima persona quindi confidiamo in Emanuele grande dai dai che ce la facciamo dai ma se hanno il DNA dell'assassino perché non confrontarlo con i DNA bergamaschi che erano stati presi per Yara perché ancora il DNA dell'assassino non sanno se ce l'hanno o meno tra un attimo ci arriviamo e comunque sì considerato che hanno il DNA del killer di Bergamo cioè di quello che ha ucciso almeno due donne di cui non siamo certi perché c'era il suo DNA sulle scene del crimine sì sarebbe molto bello se riuscissero a comparare quel DNA di cui siamo certi e sia di un serial killer con quelli raccolti per il caso Yara però è anche vero che ho ricevuto un messaggio da parte di una persona a cui è stato ritirato il DNA ai tempi delle indagini su Yara e mi ha raccontato che lei ha chiesto agli inquirenti ma poi del mio DNA quando avete capito insomma quello che dovete capire cosa ne fate e gli inquirenti le avrebbero detto ah no no poi dopo va tutto buttato via quindi ora io vi sto parlando per sentito dire perché mi è stato riferito da questa persona però se davvero hanno buttato via tutto magari l'hanno fatto per ragioni di privacy sì ok ma vuol dire che abbiamo preso 3 milioni e li abbiamo completamente buttati nel cesso cioè non solo li abbiamo buttati nel cesso per il caso Yara che è stato condotto come avete capito veramente col culo ma l'abbiamo buttato nel cesso perché poi tutta questa raccolta dati di DNA che poteva essere utile per indagini future anche qui ci facciamo niente boh torniamo a noi sono quindi fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza che come vi dicevo sono state acquisite anche quelle dei comuni limitrofi per riuscire a capire se a quell'ora si è effettivamente passata un'auto sospetta sgommante oppure se ci fossero delle persone a piedi grazie ai video delle telecamere pubbliche e private i carabinieri sono riusciti a ricostruire interamente il percorso fatto da Sharon durante la sua camminata stava tornando a casa in quel momento lei aveva praticamente terminato il suo giro e stava rientrando verso casa sua mancavano 650 metri al suo cancello che si trova in via Merelli 28 e lei aveva fatto 50 minuti di passeggiata perché le telecamere la vedono proprio uscire di casa a mezzanotte ed era passata per piazza Sette Martiri che da quello che mi dite è una piazza diciamo dello spaccio ma in ogni caso mi sembra di capire sia dalle interviste televisive sia dai molti che mi hanno scritto che quella non sia certo una zona molto sicura e che darci in giro la notte così non è rassicurante io non so poi perché Sharon contrariamente agli altri non avesse paura questo non ne ho idea fatto sta che per tutti sembra una follia andarsene in giro da sola a quell'ora e considerate anche le ultime dichiarazioni del suo ragazzo anche per lui sembra una follia questa cosa sicuramente l'assassino si è sporcato esiste anche la possibilità che si sia ferito perché dando delle coltellate così forti spesso e volentieri il coltello scivola perché cosa succede tu hai un coltello in mano a meno che non sia di quei coltelli che hanno l'elsa con la il paro non so come essi chi ha con il fermo mano proprio detta in maniera assolutamente ignorante che sia bello bello sostenuto oppure tipo il fioretto che c'ha addirittura la 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 conchiglia che para capita che l'assassino scivoli nel coltello perché il sangue è molto vischioso quindi dando la coltellata e sporcandosi di sangue ricordo che ne ha date tre e poi una quarta di fronte possa essere scivolato col palmo della mano sulla lama tagliandosi anche lui questo è il motivo per cui tante volte si trova il sangue dell'assassino sul corpo della vittima per quanto riguarda le azioni pratiche e tutto ciò che viene narrato in questi giorni in maniera davvero iperbolica e anche tante volte scorretta sono diventata pazza a ricostruire la faccenda dei garage cosa c'era nei garage chi c'era nei garage se era vero se non era vero quindi al momento la verità delle ultime ore è quella che vi dico adesso tutta corretta tutta debancata ma considerato quante cose si stanno inventando sul caso possibile che non sia neanche vero quello che vi sto per dire però mi sono impegnata tanto quindi vi prego vi prego abbiate pietà ora lunedì 5 agosto viene perquisito non messo sotto sequestro ma perquisito e quando non viene messo sotto sequestro vuol dire che non hanno trovato niente di chissà quanto importante un garage presso il palazzo marrone in via Castegnate 29 lo stesso palazzo marrone sotto il quale è stata uccisa Sharon i carabinieri da quel garage hanno preso una branda un tavolino alcune magliette e dei cellulari non si parla di sangue le magliette erano magliette non sporche di sangue cellulari con ogni probabilità rubati insomma parte di una refurtiva il dubbio degli inquirenti è che non vedendo nessuno dalle telecamere allontanarsi dalla scena del crimine il dubbio degli inquirenti è che l'assassino possa essersi nascosto in quel garage dopo aver ucciso Sharon ma a me adesso sorge un'altra cosa mi viene un dubbio e questo è il caso di Pierina che me lo ha pulcato nel cervello e se l'assassino abitasse proprio in quel palazzo cioè lì non ci sono le telecamere ok garage ma se tu abiti nel palazzo non ti vedono certo andartene non so magari stanno già indagando in questa direzione sicuramente Emanuele ci ha pensato sicuramente la notizia del sequestro dei coltelli all'interno di questo garage di cui si narrava che uno di questi fosse sporco di sangue non so se ricordate ma ieri l'altro titolavano tutti i giornali di questa con questa indiscrezione in realtà è falsa non viene più ripresa per lo più non ho visto grandi errate corrige rispetto a ciò come al solito perché figuriamoci si parla invece di cito l'articolo del Corriere che si sta ampiamente dedicando al caso coltelli sequestrati in diversi ambiti dalle segnalazioni ai controlli personali sono diversi selezionando quelli di dimensioni compatibili con un'arma strutturata che ha prodotto tre ferite profonde sulle quattro inferte sostanzialmente stanno dicendo che stanno cercando un coltello strutturato perché dalle ferite sul corpo di Sharon appare che il coltello non fosse un coltellino a caso ma fosse un coltello strutturato ora io quando penso coltello strutturato non penso a un coltello da cucina anche se sappiamo che aveva la lama larga ma penso a un coltello tipo di quelli da caccia cioè quelli fatti apposta per pugnalare le carni anche perché altrimenti avrebbero detto coltello da cucina quindi parliamo di un'arma particolare e i coltelli che sono stati sequestrati non sono stati sequestrati nei garage ma sono stati sequestrati a persone su segnalazione di altre persone o su sospetti degli inquirenti per cui ridimensioniamo un attimo la notizia che nel garage c'erano i coltelli anche perché se nel garage ci fossero stati i coltelli il garage sarebbe stato messo sotto sequestro invece è stato perquisito ma non sequestrato inoltre nessuno di questi coltelli era sporco di sangue quindi quella era proprio una fake news bella che inventata dai giornali difficilmente si trovano delle rate corrige rispetto a fake news diffuse ma qui abbiamo una rara forma di correzione giornalistica infatti lo stesso articolo del corriere dice fonti qualificate non confermano la notizia circolata su un coltello con tracce di sangue non ci sarebbero evidenze in questo senso servono le analisi del RIS per indicare una prova così rilevante senza non si può comunque escludere che tra le lame sequestrate ci sia anche l'arma del delitto quindi tutto molto mostreremo a vede noi abbiamo preso dei coltelli da gente poi vedemo se magari c'è uno che corrisponde e via si prega a Bergamo ogni tanto gli piglia il romano è stato poi perquisito un altro box questo invece a Capriate è stato intervistato dai giornalisti di pomeriggio 5 il proprietario del box e il proprietario ha raccontato che il suo box auto lui non lo utilizzava per la sua macchina non lo utilizzava per niente se non per metterci delle sue cianfrusaglie della robaccia roba che lo deve buttare via insomma e ha detto che da dieci mesi il suo garage era occupato abusivamente da immigrati marocchini che inizialmente lui aveva lottato per portarli via per farli portare via dalle forze dell'ordine che erano stati effettivamente allontanati dalle forze dell'ordine lui aveva sistemato il garage l'aveva richiuso ma glielo avevano scassinato nuovamente poco dopo e ci si erano rificcati di nuovo dentro e a quel punto lui ha detto vabbè a fangulo tanto non lo uso lascio perdere e sostanzialmente questi immigrati usavano quel garage come base per la refurtiva dei loro furti e per tenerci la droga che spacciavano quindi al momento gli inquirenti hanno trovato effettivamente delle dosi di droga e della roba rubata in tutto questo mi auguro ovviamente che il proprietario non non abbia delle conseguenze perché quando trovano della refurtiva in un luogo di tua proprietà in qualche modo è tua responsabilità il fatto che siano lì ma constatando la situazione spero mi auguro che il proprietario non subisca nessun tipo di conseguenza eravamo all'intervista del proprietario del garage lui dice che questi immigrati se ne sono andati dal suo garage da due tre settimane quindi parliamo di due settimane prima dell'omicidio di Sharon ciò nonostante la giornalista dice quindi secondo lei il fatto che se ne siano scappati dal suo garage ha a che fare con l'omicidio di Sharon e lui fa è probabile ma scusatemi non ci capisco l'innesso se gli immigrati che occupavano il suo garage se ne sono andati due settimane prima che venisse uccisa Sharon com'è possibile che siano scappati dal loro covo proprio perché c'entrano con l'omicidio di Sharon non ci trovo il nesso poi magari sono stupida io però se trovate un nesso a questo ditemelo al momento le piste dei garage non stanno portando a nulla di concreto tranne all'isteria di massa delle persone che abitano in quei comuni perché? perché è stato sequestrato anche un altro garage quest'altro garage si trova a Capriate qui c'è un po' di delirio allora in questo garage a Capriate vive ovviamente abusivamente un 45enne marocchino pregiudicato vi ricordate che avevo parlato di questo marocchino pregiudicato che viveva a Capriate e che in molti abitanti avevano segnalato come possibile sospetto bene al momento secondo la popolazione lui è il colpevole per una buona fetta di popolazione lui è l'assassino di Sharon sulla base di niente ovvero sulla base del fatto che è un immigrato è una persona che commette dei reati quindi sicuramente dovrebbe stare in carcere e su questo siamo tutti d'accordo ma da qui ad essere un assassino c'è di mezzo il mare no? e alcuni del paese hanno detto di averlo visto nella zona dell'omicidio ma state attenti perché quello che non vi dicono è che in realtà lui era sì nella zona dell'omicidio ma c'era dopo alcune ore in mattinata dopo alcune ore dall'omicidio di Sharon per cui chiunque poteva trovarsi dopo ore nella stessa via dove è stata uccisa Sharon ok? però lui è diventato il nemico pubblico numero uno di certo non è una persona che segue la legge non è una persona raccomandabile non sono qui a dire che è un santo anche perché occupa abusivamente la proprietà altrui vive di furtarelli e spaccio quindi non è una brava persona ok? però da qui a etichettarlo come quello che ha ucciso Sharon perché è un immigrato ed ha dei precedenti che tra l'altro i precedenti sono furto e spaccio campacavallo ok? ora vorrei fare un discorso sono stata raggiunta da alcuni di voi della zona infatti io vi ringrazio tantissimo perché mi state dando una mano santa ad entrare dentro i casi di attualità perché mi scrivete proprio voi dalle zone dove accadono e mi date delle informazioni di prima mano per cui io davvero grazie 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 insomma uno di voi mi ha fatto avere questo screenshot entriamo proprio dentro la quotidianità di questo caso come potete vedere io ho censurato tutto per rispetto nei confronti di questa persona ma questo messaggio è stato inoltrato molte volte quindi vuol dire che è diventato virale sui gruppi whatsapp e gira su whatsapp tra gli abitanti di quelle zone la cosa gravissima è che girano delle sue foto segnaletiche che come potete vedere sono state fotografate direttamente dal software delle forze dell'ordine qualcuno ha fotografato la schermata del computer del software delle forze dell'ordine dove ci sono scritti tutti i suoi dati la sua faccia proprio chiarissima io tra l'altro ho cancellato anche i capelli perché potrebbe essere riconoscibile anche dai capelli sospettato di omicidio commesso a terno d'isola se lo vedete in giro bloccarlo e avvisare comandante compagnia treviglio la caccia all'uomo è partita cioè questa persona che ha messo in giro questo messaggio si finge un membro delle forze dell'ordine che si appella alla popolazione per fare la caccia all'uomo ma ragazzi ma non esiste che carabinieri poliziotti comandanti dicano alla popolazione di bloccare un sospettato ma siamo matti perché se è davvero un sospettato di omicidio tu lo fai bloccare da un altro cristiano a rischio che ci lasci le penne pure quell'altro raga è folle è folle in questa foto vedete un'immagine tratta dai funerali della povera Sharon dove c'è la madre straziata dal dolore di Sharon che si aggrappa al fidanzato di Sharon che si chiama Sergio Ruocco è doveroso fare una precisazione ripeto perché ripetita Juvent gli inquirenti paiono non avere alcun sospetto sul fidanzato Sergio per i motivi che vi ho detto prima e anche la famiglia di Sharon lo difende a spada tratta e tutti quelli che lo conoscono dicono che non hanno alcun dubbio su di lui perché era davvero un bravo ragazzo però in molti devo dire andando a guardare un po' gli spazi social ma anche solo leggendo i commenti sotto il mio ultimo TG Crime in molti hanno sospetti sul fidanzato lui lavora come diciamo handyman elettricista idraulico di 37 anni al momento dell'omicidio si trovava in casa sua da quello che lui ha raccontato stava dormendo e il suo alibi viene confermato dalle telecamere i carabinieri si fiondano a casa sua alle 4.30 e lui si è fatto svegliare sostanzialmente dai carabinieri si era da poco reso conto che nel letto non c'era la fidanzata alla stampa ha rivelato anche di avere dei grossi sensi di colpa dice io purtroppo non mi sono reso conto di niente capitava che Sharon andasse a camminare la sera per il caldo da sola oppure qualche volta con me ma se avessi saputo che sarebbe uscita quell'ora non l'avrei lasciata quindi quello che ci sta dicendo lui è che Sharon era solita uscire a orari precedenti rispetto a così tardi e come vedete non è che lui l'accompagnava sempre anzi più spesso andava lei e ogni tanto ogni tanto lei ogni tanto lui l'accompagnava però dice non mi sono accorto di niente probabilmente quando lei è uscita che era già mezzanotte lui era già addormentato poi aggiunge non c'era niente che la preoccupasse ho chiesto anche alle sue colleghe di lavoro perché loro insieme alla famiglia sospettano di questo stalker di cui vi dicevo prima speravo che le indagini portassero a qualcosa più velocemente ho chiamato e mi hanno detto che stanno facendo il possibile bisogna lasciarli lavorare allora che lui non è uscito di casa ne hanno la certezza gli inquirenti per cui oh raga non cioè che lui abbia materialmente ucciso la fidanzata è praticamente impossibile poi se vogliamo incastrarlo per forza in questo omicidio pensando magari a un sicario che qui alzo le zampe perché su questo ancora al momento non possiamo avere certezza ora loro due stavano insieme da praticamente la metà della loro vita perché stavano insieme da 16 anni ed erano andati a convivere a Terno d'Isola che tra l'altro era stata una scelta studiata per essere nell'esatta via di mezzo tra le case dei genitori di lui e le case dei genitori di lei perché erano entrambi molto legati alle loro famiglie e anche a quelli l'uno dell'altro erano andati a vivere lì da tre anni anni nei quali nessuno dei vicini li ha mai sentiti litigare e nemmeno emettere rumori particolari addirittura dicono che non sentivano nemmeno la televisione accesa quindi persone veramente molto molto silenziose addirittura vi ricorderete che vennero definiti come una coppia fantasma possiamo leggere da fonte TG Corom TG La7 Sky TG24 Leco di Bergamo e Corriere queste parole più o meno copia incollata in tutti gli articoli dopo aver frequentato il corso prematrimoniale insieme si preparavano a fissare la data delle nozze insieme avevano appena concluso il corso per fidanzati in parrocchia ma sulla data del matrimonio dovevano ancora decidere perché vi ho fatto tutto il pippone con le fonti con le frasi con le cose in realtà questa cosa ha senso perché alcuni nei commenti mi hanno dato della cazzara alcuni sono stati anche gentili però devo dire che ci sono stati dei commenti molto maleducati e feriti il mio coricione mi hanno dato della cazzara dicendo che mi invento le cose e che mi invento che lei frequentasse la parrocchia quando in realtà lo dicono tutte le principali testate giornalistiche ora se volete contestarmi vi fate il cavolo di copia incolla di questa frase dopo aver frequentato il corso prematrimoniale insieme si preparavano a fissare la data delle nozze scrivetelo su google e ditemi se sono io la cazzara perché mi sono veramente sfracellata i santi perché questa gente sostiene che io mi sia inventata che lei frequentasse la parrocchia con il fidanzato perché in realtà lei faceva parte di Scientology quindi è impossibile che avendo fede in Scientology lei frequentasse la parrocchia a me cioè sta bene forse avete anche ragione ma io non sono niscente io non vivo lì io non ero la vicina di casa di Sharon quindi mi devo basare su quello che viene raccolto dai giornalisti quindi per favore state calmi potete dire le cose in maniera gentile grazie ora al di là della poca eleganza con cui vengono fatte determinate correzioni sono andata a informarmi e ho in effetti trovato riscontro è vero a parlare di questo argomento sono state delle testate locali in particolare Bergamo News notizia ripresa poi da TPI e Leggo quindi stiamo parlando comunque di testate minori le testate nazionali i grandi organi di stampa non ne hanno fatto menzione ma visto che sono stata ripresa in questo andiamo ad approfondire abbiamo la certezza che lei e il fidanzato avessero frequentato il corso prematrimoniale in parrocchia perché esce il giorno scusa non so che scusa ti sto picchiandomi perché è uscito il giornalino della parrocchia dove ci sono i nomi di tutti quelli che fanno il corso e ci sono i loro nomi però visto che è giusto guardare le cose a tutto tondo ed è giusto anche leggere quello che scrivono i giornali locali adesso vi leggo l'articolo di Bergamo News i carabinieri di Bergamo e Zogno coordinati dal sostituto procuratore Emanuele Marchesio stanno scandagliando la vita privata della donna io comunque sto facendo così perché spero che incoraggiando il PM si impegni di più cioè tipo gli mando le benedizioni non so mi sto impegnando perché ci spero tanto stanno scandagliando la vita privata della donna in passato estetista in borgo Santa Caterina e ora impiegata in una pasticceria di brembate chiusa per lutto sarà passato un anno dall'ultima volta che ci siamo sentite racconta un ex collega Sharon era molto riservata non dava grande confidenza né a noi né ai clienti ogni tanto parlava del suo compagno e diceva chissà quando si chiede si deciderà a chiedermi la mano erano sempre lei e lui ripete l'ex collega lei e lui quindi da quello che capiamo è era una coppia molto chiusa anche lei cioè tutto il suo mondo a livello sociale era il fidanzato e questo è estremamente tossico non per dirvi che il fidanzato fosse una persona tossica no vi sto dicendo che vivere in questo modo le relazioni è estremamente tossico quindi se vi accorgete di essere così in una relazione vi consiglio di lavorare per allargare i vostri contatti sociali perché altrimenti entrate in una sorta di codipendenza estrema l'uno dall'altro e poi nel momento in cui magari non state più bene nella relazione diventa impossibile lasciare perché fuori non avete nient'altro pare che la giovane fosse anche legata a Scientology la nota associazione religiosa fondata nel 54 dall'ex scrittore Ron Hubbard e frequentata dalle star di Hollywood se volete un approfondimento su Scientology che fa anche molto ridere ci sono dei miei video speciali dedicati appunto a Scientology e vi assicuro che quelli di Scientology li hanno visti e non me li hanno buttati giù hanno provato a lamentarsi io ho detto ha 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 e poi non è successo niente quindi ehi andiamo avanti il movimento il movimento conta decine di chiese e milioni di fedeli in tutto il mondo promettendo la purificazione e la liberazione dello spirito ciò che non tutti sanno è che Scientology ha una sede anche in provincia di Bergamo in via Roma a Gorle mercoledì pomeriggio intorno alle 15 passiamo dagli uffici per capire se qualcuno conosceva davvero Cher ora i giornalisti di Bergamo News sono andati in missione alcuni dicono di non avere mai visto la giovane e non stentiamo a crederlo visto che sono davvero tante le persone che varcano la porta della sede per i corsi altri si limitano a far capire che sì la conoscevano senza però aggiungere nulla sulla sua esperienza in Scientology un uomo promette di farci parlare con la responsabile si chiama Marta Riva nel giro di 1-2 minuti arriva dice i minuti diventano 20 finché dalle scale non scende una ragazza dai modi molto cordiali chiediamo se è lei la responsabile ma la risposta è negativa le chiediamo allora se conosceva Sharon è un momento particolare per tutti si limita a rispondere siamo davvero scossi concetto che sottolinea più volte prima di invitarci a contattare un indirizzo e email per altre informazioni proviamo ma senza ottenere riscontri adesso vi riempiranno di dépliant rivolgiamo le stesse domande a qualche altro adepto chiediamo di Sharon ma la voglia di parlare è poca so che avete già sentito chi di dovere taglia corto una ragazza davvero non posso dire nulla e questa è la grande prova della partecipazione di Sharon a Scientology boh raga cioè io non credo mi sembrano tutte delle gran cagate però va bene un'altra cosa strana però e questa è veramente strana è un'intervista al padre di Sergio quindi stiamo parlando del suocero di Sharon che ha detto ai giornalisti che suo figlio e Sharon erano in realtà già sposati in comune ma questa cosa è falsa ragazzi anche il sindaco ha negato fortemente questa circostanza però sentiamolo dalla sua voce così potete sentire le vostre orecchie erano già sposati in comune convivevano e io ho detto quando mi fate dire no no e mi ha detto dirlo a lui e lo ho detto tre volte e ultimamente credo da parte degli amici suoi che ci stavano pensando avere un erede invece è andato così non lo so come spero che lo prendano Sofì che lo è stato ho visto che è lì non avete visto reagisce bene intanto reagisce non è uno che ci lascia andare io sono uno che mi emoziona e basta mi do appoggio per la persona ma si è fatto un'idea di quello che è successo Sofì dove avete parlato no no però non lo so lei si è fatta un'idea di quello che è successo chi può aver ucciso questa ragazza così bella brava l'hanno accontellata di proposito per me ha fatto qualche avanza a qualcuno qualcuno ha fatto avanza a lei credo sono cose che penso io perché al bar dove andava andava a fare colazione il dietologo gli ha detto di fare un po' di ginnatica un po' ci ciocca allora la sera usciva è entrata a quei bar anche la musica a ballare per me qualcuno l'ha affiancata ma che lei si è andata a quel bar quella sarebbe sicura non lo so no quello che hanno detto ha intervistato il bar che andava là quella sera lì non lo so se è andata là e avete sentito l'intervista al padre di Sergio dici magari un padre di vecchio stampo non avrebbe accettato una convivenza e quindi gli avranno detto che erano sposati in comune ho pensato anch'io questa cosa ho pensato che magari gli avessero detto una bugia per non farlo lamentare o cose del genere tuttavia sappiate che è falso ma vado avanti a leggervi quest'altro articolo sempre da Bergamo News che entra di più nella sfera privata dei personaggi Sharon Verzeni e Sergio Ruocco avevano concluso il corso prematrimoniale lo scorso marzo ma la data delle nozze sembrava ancora molto lontana e a una vicina di casa specifica domanda tre settimane fa lui aveva risposto Sergio non sappiamo ancora quando c'è tempo i due giovani erano fidanzati da una quindicina d'anni 16 per l'esattezza e come ha raccontato il padre di lui Mario Ruocco lei desiderava avere un figlio mentre il 35enne anche su questo aspetto sembrava più titubante vogliono gettare le ombre di un movente ragazzi ovvero lei voleva sposarlo e mettere su famiglia e lui invece voleva scappare ecco il movente questo stanno facendo ormai ormai li ho capiti io loro li ho capiti un paio di settimane fa dissi loro che volevo diventare nonno e Sharon mi rispose di chiedere a Sergio le sue parole all'uscita dal cimitero dopo le esecue lo stesso uomo ha raccontato anche che i due erano già sposati in comune a Terno e si preparavano a farlo pure in chiesa un particolare quello delle nozze civili smentito però dal sindaco Gianluca Sala che ha detto non è affatto così tanto è vero che nel documento di morte la ragazza risulta nubile quello che loro ci stanno dicendo è ma non è che magari questo è uno di quei killer pusillanimi che vi ricordate adesso non cioè è una situazione diversa ma quello che loro stanno cercando di farci pensare è che Sergio possa avere in qualche modo un movente in quanto un pusillanime in stile Carlo Lissi o in stile Chris Watts che sostanzialmente non aveva il coraggio di lasciare la moglie facendo quindi figuraccia anche con le relative famiglie distruggendo una unione così forte e lunga nel tempo e per non affrontare la vergogna il biasimo di una scelta del genere ha preferito il sotterfuggio dell'omicidio quindi una sorta di omicidio per vergogna il tutto basato su nulla perché esatto lui ha un alibi solidissimo e non è nemmeno un sospettato gli inquirenti hanno anche immediatamente smesso di tartassarlo quindi continuare a puntare il dito contro una persona che non è nemmeno sospettata al momento o mettere all'agonia il marocchino di turno cioè io non ho capito vedete vedete poi qual è il problema quando gli inquirenti mantengono il riservo delle indagini necessario per poter portare avanti in maniera corretta le indagini i giornalisti si inventano di tutto e di più e prendono come prova le chiacchiere di paese quando invece la procura rilascia loro delle informazioni e poi si rischia di far del danno perché si inficcia il segreto di indagine e si va magari a dare l'assist all'assassino per cui ragazzi cioè siamo veramente in un mondo folle e poi vanno avanti e anche qui hanno intervistato dei vicini di casa che vogliono rimanere anonimi quindi li chiamano O.T. però dicono dove abitano quindi tutti sanno chi sono O.T. vive nell'appartamento sotto di sotto il loro perché loro stanno al primo piano e O.T. con la moglie sta al piano terra non avevano qui c'è il virgolettato quindi l'intervista non avevamo grandi rapporti perché erano molto riservati e non si vedevano quasi mai le parole dei due ci siamo sentiti con lui tre settimane fa nella chat whatsapp della via perché avevamo una perdita in casa ed essendo idraulico è venuto a sistemarla allora visto che era lì gli abbiamo offerto un caffè è interessante cioè questa è proprio un'intervista che fa la differenza poi andiamo avanti gli ho detto che avevo visto sul giornalino comunale che avevano fatto il corso prematrimoniale aggiunge la donna e gli ho chiesto quando avevano intenzione di sposarsi ma lui ha risposto che voleva aspettare ancora un po' Sergio Sergio gli do un consiglio impara a rispondere ma fatti una minchiata di cazzi tua perché questa è la risposta giusta da dare a questo tipo di persone hai fatto il corso prematrimoniale ma com'è che non vi sposate Sergio ti prego ti prego manda a fanculo tutti così ti prego niente scusatemi ragazzi ma io gli impiccioni non li sopporto proprio non li sopporto ma voleva bene alla sua ragazza ne sono certa non li abbiamo mai sentiti discutere e gli viene chiesto che idea vi siete fatti su quello che è accaduto nessuna anche perché quella notte eravamo via in vacanza quindi top testimoni possiamo solo dire che Terno è diventato un paese molto pericoloso e adesso abbiamo tutti paura a uscire la sera e lo scorso inverno diverse auto sono state prese di mira dai vandali della notte anche nel nostro quartiere i vandali della notte pensi che una nostra vicina di via Merelli più o meno dell'età di Sharon dopo il suo omicidio ha subito messo in vendita la casa speriamo trovino al più presto il colpevole perché non si può vivere nel terrore in ogni caso aggiungono Sergio non c'entra nulla con questa vicenda perché lui è un bravo ragasso lo dicevano anche di Turetta non mi sembra la frase giusta da dire in questi tempi però ai funerali gli abbiamo fatto le condoglianze e gli abbiamo detto che se ha bisogno di qualcosa noi ci siamo ma per il momento ha detto che non tornerà in quell'appartamento allora ragazzi questo è il motivo per cui io non prendo le informazioni dai giornaletti minori ai giornaletti locali perché questa è la qualità ma dovevo farvela toccare con mano anzi con orecchio così magari imparate a non venire a farmi le pulci perché non riporto perché ci sarà un motivo se non sono ansa ci sarà un motivo se non sono a dncronos ci sarà un motivo se queste informazioni non arrivano alle grandi testate nazionali ok ci siamo capiti che fatica no beh ho fatto bene perché è giusto io ci tengo a spiegare le cose alle persone come i negazionisti di Turetta io ci ho tenuto a spiegare poi non serve anche ma magari uno su 40.000 l'ho salvato che ne so magari lui invece è orgoglioso dice no io non le do la soddisfazione di dirle che mi ha salvato ma lo ha fatto cioè io confido nei salvati silenziosi incredibilmente torniamo a respirare lo stesso clima che si respirava 14 anni fa quando scomparve Yara mi auguro solo che gli inquirenti a questo punto non vengano spinti dalla pressione sociale a commettere lo stesso errore che hanno commesso con Mohammed Fikri me lo auguro con tutta me stessa però vi vorrei leggere questo articolo che ovviamente contiene verità la criminalità va combattuta la criminalità in quelle zone è un problema e lo è ma lo era anche prima dell'omicidio di Sharon ora tutta questa pressione sugli immigrati che commettono reati e che non fanno stare tranquilli gli abitanti tirarla fuori adesso come a sottintendere che sicuramente Sharon è stata accisa da uno di loro senza che ci sia nessuna prova di questo senza che non ci sia nessuna pista concreta su questo è un po' triste e mi vengono le feels vi ricordate avete visto anche nella docuserie di Yara in quel periodo in cui lei scomparve e c'erano tutti gli abitanti della Bergamasca che tiravano fuori i cartelli via gli immigrati tornate a casa Gianluca Sala il protagonista di questo articolo del Corriere che vi leggo vengono identificati e portati in questura per essere espulsi ma capita anche che queste stesse persone tornino nei luoghi in cui erano stati fermati è una dinamica spiacevole quella descritta dal sindaco di Terno d'Isola Gianluca Sala con cui gli amministratori locali ob torto collo devono fare i conti quando qui c'è il virgolettato quando le forze dell'ordine identificano in paese delle persone su cui pende un decreto di espulsione che turbano l'ordine pubblico o che si sono rese autrici di reati minori riflette il sindaco a volte ritroviamo quelle stesse persone sul nostro territorio poco dopo Sala è il primo ad essere consapevole e a riconoscere l'impegno di chi svolge indagini per garantire la sicurezza dei cittadini per questo il contenuto di una nota diffusa a poco più di una settimana dall'omicidio di Sharon Verzeni suona più come un appello alle istituzioni nazionali a me scusate la malizia ma sembra un po' un colgo l'occasione per farmi pubblicità in quanto uomo di politica emerge un meccanismo efficiente puntuale sul campo rileva il primo rileva il primo cittadino di Terno a cui però segue una catena a cui manca un anello che rischia di vanificare l'azione delle forze dell'ordine il sindaco nella nota diffusa dice che l'amministrazione è consapevole del sentimento di preoccupazione provato dalla cittadinanza dopo il delitto ma che è anche in costante coordinamento con le forze dell'ordine per ristabilire un clima di maggiore fiducia tensione alimentata da altri fenomeni di degrado riconducibili alla posizione geografica di Terno capite che stanno un po' spingendo affinché venga arrestato il marocchino cioè secondo me succederà di nuovo perché tanto la storia non ci insegna niente adesso arresteranno il marocchino quello delle foto che sono girate nei gruppi whatsapp così la popolazione è contenta dice bravo al sindaco dice bravo alla forza dell'ordine e poi tra un mese lo scarceranno perché non c'entrava nulla e avranno perso tutto questo tempo in cui avrebbero potuto portare avanti delle indagini fatte meglio e invece no pur di far stare buoni l'opinione pubblica Emanuele sei tutti noi ti prego eh dai Emanuele daie daie nell'asse dell'isola bergamasca e del trasporto ferroviario un crocevia logistico importante e quindi è più esposto di altri comuni a queste dinamiche parla di Terno Gianluca Sala ricorda gli interventi promossi per restituire un paese in cui vivere con maggiore serenità grazie anche al dialogo con la prefettura in cifre contabili il comune di Terno che vi ricordo ha 8.000 abitanti ha investito più di 500.000 euro negli ultimi 5 anni ha assunto nuovi agenti di polizia locale da 2 ora sono 4 raga scusatemi però 8.000 abitanti c'erano 2 agenti? eh cioè anche senza l'emergenza criminalità mi sembra un pochino potenziato le telecamere da 16 a 54 contribuito all'abbattimento di un polo residenziale abbandonato le ex casette FBM che erano diventate teatro di bivacco degrado e criminalità bravo sindaco Sharon è morta l'hanno uccisa però bravo sindaco bravo attivato il controllo del vicinato 2.0 che mette in comunicazione i cittadini con l'istituto di vigilanza privata e all'occorrenza le forze dell'ordine avviato un servizio di sorveglianza serale nelle aree sensibili e coinvolto i residenti in varie iniziative si tratta di un pacchetto di misure straordinario spiega il sindaco Gianluca Sala che continueremo a implementare a testimonianza di come la qualità della vita a Terno d'Isola sia al primo posto della nostra agenda gli strumenti a nostra disposizione però non sempre sono sufficienti per assicurare la massima sicurezza per questo motivo rilanciamo il nostro appello alle forze politiche e alle istituzioni sovracomunali per incrementare il supporto già ricevuto con ulteriori strumenti concreti specialmente di carattere normativo che possono portare ad un'azione risolutiva su lungo termine allora cioè io mi chiedo anche no sindaco c'erano tutte ste gran figate no e più polizia locale e più telecamere e addirittura il contatto con la vigilanza privata le forze dell'ordine il servizio di sorveglianza serale nelle aree sensibili ovvero stiamo parlando soprattutto no della piazza Sette Martiri no dove spacciano però incredibilmente una ragazza è stata ammazzata in centro storico da così boh io non so dimmo tu com'è possibile da ultimo Gianluca Sala replica le critiche che i gruppi di minoranza avevano mosso mosso scusatemi riguarda i problemi di sicurezza in paese evidenzia il suo rammarico per una comunicazione diffusa alla vigilia di un lutto cittadino un tempismo inopportuno in contrasto con la condivisa volontà di non voler fare polemica in un momento di grande preoccupazione a suo dire i rappresentanti consigliari avrebbero dovuto dare il buon esempio va bene va bene me l'accollo comunque era giusto perché così sapeste no come la storia si ripete le feels che mi sta dando questo caso e mi auguro che il vero assassino venga preso al più presto perché altrimenti ne faranno le spese gli innocenti youtube per aver visto il tg crime fino alla fine vi ricordo di iscrivervi al canale perché più iscritti più notizie più approfondimenti e più true crime grazie infinite anche se verrete a trovarmi in live su twitch vi aspettiamo ogni martedì giovedì e domenica alle ore 20 e seguitemi anche su instagram per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti grazie mille tanto amore grazie mille grazie mille grazie mille